L'inquinamento acustico significa ridurlo, significa salute, significa tutela delle persone che vivono in quel territorio. I residenti lo segnalano da tempo, quel rumore è fastidioso, esprimendo anche preoccupazione. Ora la conferma è arrivata, infatti gli accertamenti eseguiti dal Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano per conto di Terna hanno confermato che i problemi sull'inquinamento acustico esistono e in alcuni orari sforano i limiti di legge. Le rilevazioni sono state effettuate ad aprile e a giugno nelle abitazioni vicine alla centrale di Carrara e ieri i vertici della società che gestisce la rete elettrica nazionale hanno comunicato al sindaco e al suo vice i risultati dei dati racconti. Questi entro domani verranno consegnati ad Arpam che farà ulteriori verifiche. Intanto abbiamo avuto un incontro perché le settimane scorse avevo presentato una diffida a Terna in quanto non avevo ancora avuto alcuni riscontri e devo dire che ha avuto l'effetto che doveva avere e c'è stato questo incontro, un incontro importante dove c'è un dato oggettivo, il problema esiste e quindi a me interessa non tanto avere la formalità del risultato quanto le azioni da mettere in campo vere per ridurre il problema dell'emissione acustica. Su questo ci sono delle buone notizie che ovviamente dovranno essere confrontate anche con Arpam sulla efficacia e intanto abbiamo chiesto l'istituzione di un tavolo permanente, Arpam, Terna e Comune. Questo diventa importante per tante cose. Le azioni che sono emerse, una prima è la sostituzione dei macchinari, dei trasformatori, sono tre. Verranno cambiati entro dicembre, il primo arriverà entro agosto, entro il primo agosto a Carrara e poi la sostituzione ovviamente richiede, avendo una complessità, perché si va a essere il blocco della linea quindi non sono in grado di dire nelle tempistiche precise, però entro il primo agosto arriverà a Carrara. Inoltre, ha proseguito il sindaco, sono previste anche delle barriere e delle coperture fonossorbenti che verranno installate nei prossimi mesi. Nel frattempo abbiamo chiesto anche di poter spegnere alcuni macchinari che sono rumorosi perlomeno durante la notte in attesa che vengono ultimate queste cose. C'è stata una disponibilità sulle nostre ulteriori richieste che dovevano verificare all'interno però questo è il risultato che io reputo buono in questo ultimo incontro. Sindaco, ci saranno ulteriori incontri con i residenti? Sì, abbiamo chiesto anche la loro presenza perché queste iniziative, questi interventi verranno spiegati anche con la mappatura, con precisione e lo abbiamo programmato per la settimana prossima.